Non mi resta che augurarvi, miei cari ragazzi, delle buone vacanze. Basta, questa conversazione è durata troppo. Le vacanze si faranno senza nonnina. Cara, credo che passeremo delle vacanze bellissime. Guardate come sono carini quei due. A Roma, per strada, la gente mi chiama maestro, maestro! Il film Le vacanze del piccolo Nicolà, martedì 20 luglio, alle 20.55.